allora un altro tipo di occhiello sempre in orizzontale è il cosiddetto occhiello d'assarto e si fa utilizzando un filato di un altro colore che poi verrà eliminato allora io arrivo al punto dove devo fare il mio occhiello e prendo l'altro filato lo tengo fermo con la mano con la mano sinistra e lo utilizzo per lavorare le maglie per la grandezza del mio occhiello che vorrò fare quindi io mettiamo faccio un occhiello di quattro maglie io lavoro quattro maglie utilizzando questo filato qua quindi tre e quattro in pratica continuo a lavorare il mio lavoro ma lascerò fermo qui da una parte il mio filo che sto utilizzando e ne uso un altro quando ho fatto le maglie che a me servano io ricarico queste maglie che ho appena fatto sul mio ferro di sinistra le ricarico semplicemente di qua non le lavoro né niente le rimetto sul ferro di qua tengo in tirare i fili sia quello in cima che quello in fondo perché tendono ovviamente ad allargarsi e poi rientro riprendendo il mio filo originale prendo il mio filo originale e faccio questo questa maglia qua le lavoro quindi una due tre quattro questa ora è l'ultima e non era legata quindi mi cede ma io la tiro non ci sono problemi ecco e finisco il mio giro del mio occhiello finisco il mio lavoro ecco qua adesso io continuo faccio ancora alcuni giri per farvi vedere il risultato ignorando completamente questo filo rosso che io ho messo che qui si taglia e si continua a lavorare come se non ci fosse ecco qua ho fatto ancora un paio di giri e il lavoro mi rimane mi si presenterà così io potrò continuare a fare tutti gli occhielli che mi servano e avrò il lavoro chiuso senza gli occhielli a vista per il momento fino a finire tutto il lavoro con questi occhielli qua quando io arrivo alla fine e quindi devo lavorare il mio occhiello a questo punto farò così tolgo il filo rosso quindi qui verrà tagliato dopodiché lo sfilo via dopo che io l'ho tagliato si tira via e si toglie dal lavoro questo filo rosso che abbiamo aggiunto allora si taglia e lo sfiliamo via una volta tagliato tirandolo semplicemente ok ok ecco si toglie questo filo rosso e a questo punto il risultato che avremo vedete di queste maglie che rimangano in sospeso allora prendiamo il filo quello che stiamo utilizzando per il nostro lavoro o anche se uno ha piacere di fare degli occhielli in evidenza può usare anche un altro filo colorato e lo infiliamo con un ago allora prima facciamo un giro recuperando tutte le maglie quindi entrando dentro tutte le maglie passandoci il filo allora prendiamo bene anche tutti i fili laterali entriamo dentro le maglie allora ho passato tutto il filo quindi in tutte le maglie giro giro dopodiché si rinforza il giro per rinforzarlo si fa un giro in questo modo si entra in ogni maglia da noi veniamo di qua la prendiamo da sopra da dritto cioè rientriamo in ogni maglia da destra verso sinistra e facciamo un altro punto e così via per tutto il giro in modo da rinforzare bene l'occhiello da chiuderlo con un costolino che sarà anche il rinforzo appunto che non si non rischiamo che si che si consumi durante l'uso cioè sarà più rinforzato a forza di utilizzarlo più difficile che possa in un futuro rompersi e sfarsi tutto il lavoro ecco qua e finiamo appunto il giro in questo modo qua entrando proprio dentro tutte le maglie e rinforzando bene il lavoro lo sentirete poi mentre lo lavorate proprio si sentirà anche toccandolo appunto il fatto che in questo modo l'occhiello è veramente più duro al bordo e quindi più resistente visto che gli occhielli sono fatti per essere utilizzati diverse volte in questo modo sarà più difficile che si possano sciupare ecco qua vedete questo è il risultato ovviamente qui poi dopo nasconderemo il filo bene e questo è l'occhiello che ne viene ovviamente anche qui usando una lana molto grossa è molto evidente con una lana più sottile riusciamo a fare un lavorino un pochino più ordinato e più carino da vedersi adesso ho usato questa lana così grossa giusto perché è più si vede meglio però ovviamente quando utilizzeremo una lana più sottile questo lavoro verrà più nascosto e poi comunque rimarrà sempre dietro il bottone quindi è una treccina viene proprio come una cordicellina va fatto bello pulito il lavoro ora qui anche un po' la lana sfilacciata però e questo è appunto l'occhiello da sarto orizzontale grazie a tutti